Non mi ascolti mai. La stazione di servizio era nell'altra direzione. Un'auto elettrico? Ah, chi? Che tonto! Ma perché andare così lontano? La cosa più bella da fare con una smart elettrica è guidarla in città. Nuova smart e Q42. All electric now. 100% elettrica, 100% per la città. Smart. Negli smart center e su smart.com. Anche forforo e cabrio. Anche forforo e cabrio.